Cari fratelli, cari sorelle, iniziamo questa riflessione sulla parola di Dio della quindicesima domenica tra l'anno, invocando l'azione dello Spirito. Donaci, oh Padre, di non aver nulla di più caro al mondo che il tuo Figlio Gesù, perché è Lui che ci rivela il mistero del tuo amore, quel disegno di salvezza che il Padre ha avuto su tutta l'umanità e che costituisce la vera dignità dell'uomo. Colmaci veramente del tuo Spirito, perché questo disegno di salvezza noi possiamo annunciare con coerenza, con la testimonianza della nostra vita, ai nostri fratelli, con la fede e con le opere. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Ecco, dopo aver invocato lo Spirito, entriamo nella parola di Dio. Oggi potremmo dire che il tema di questa parola è focalizzato intorno a questo punto. Il vero missionario è l'uomo della verità, è l'uomo della parola. Potremmo dire il vero cristiano, colui che vive di fede, è l'uomo della verità, è l'uomo della parola di Dio. Bene, la prima lettura ci presenta un testo di Amos. Siamo nel capitolo 7 di questo profeta e naturalmente questo capitolo ci presenta lo scontro tra il profeta Amos e il sacerdote Amasia. Il profeta Amos è dalla parte di Dio, il sacerdote Amasia è invece dalla parte del re, è dalla parte della politica umana. Allora potremmo dire che il tema di questo primo argomento è proprio questo, la vera e la falsa religiosità, la vera e la falsa profezia. Qual è la vera parola di Dio e qual è la falsa parola umana? Bene, sappiamo che Amos, il profeta Amos, aveva criticato il re per il suo agire mondano che non osservava le leggi di Dio e Amasia invita il profeta ad allontanarsi, ad lasciare questa terra perché il re non lo vuole ascoltare. Noi sappiamo che Amos è profeta di Dio, non ha paura, è libero di annunciare la verità e la parola. È veramente un profeta tutto di un pezzo, è stato chiamato da Dio per annunciare la parola. Lui lo dice chiaramente, sono stato presso da Dio quando ero bambino, quando andavo al pascolo, quando lavoravo nei campi sui sicomori e tanti altri frutti, ebbene Dio mi ha chiamato e proprio per questo voglio essere coerente con la mia vocazione. Vedete, ogni vocazione ha sempre due elementi, l'elemento dell'elezione di Dio è il Signore che sceglie, che prende, che chiama e poi c'è la missione. Il profeta va ad annunciare la parola di Dio e il profeta Amos è coraggioso, forte, continua ad annunciare la parola per chiamare alla salvezza il popolo. Termina questa prima lettura con una frase molto bella, allora soltanto il Dio saprà e Dio dirà a tutto il popolo che in mezzo a voi c'è un profeta, dovete sapere che in mezzo a voi c'è un profeta che annuncia le parole di Dio. Bene, passiamo alla seconda lettura. Siamo con Paolo nella lettera agli Efesini e questa lettera agli Efesini ci presenta il famoso inno cristologico, è un inno che focalizza tutta la spiritualità di Paolo, si parla proprio del progetto di Dio. Questo progetto che è nella mente del Padre, il Padre manda il Figlio in mezzo a noi per liberarci, per salvarci, per redimerci, questo Figlio si fa nostro fratello, muore per noi e proprio per questo il Dio lo esalta, lo fa grande, lo rende questa pietra angolare di tutto l'edificio della Chiesa e esce con quella espressione molto bella, sia Benedetto Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo eccetera, merita di essere letto questo testo a livello anche personale. Dunque tutta la storia della salvezza ha come centro focale la figura di Cristo e con Cristo la figura dell'uomo nuovo. Perché vedete tutto l'uomo, anima e corpo, è l'uomo spirituale perché è l'uomo che si lascia condurre dallo spirito. Tutto l'uomo, anima e corpo può essere invece carnale se si lascia guidare dalla carne, dalle passioni umane. Sta a noi la scelta dello spirito o la scelta delle passioni umane. Dunque vedete tutta la legge che guida la storia della salvezza la si può condurre a questo grande progetto di amore che Dio ha riversato sull'umanità attraverso il Figlio. Cristo ci ha salvati per mezzo di questo progetto del Padre e vuole far brillare in mezzo a noi il suo amore. Ecco il progetto che Dio manifesta attraverso Gesù su tutta l'umanità, su tutti noi. È un progetto da accogliere, da vivere. E vengo al Vangelo. Il Vangelo nel capitolo sesto di Marco ci presenta quelli che sono i tratti, potremmo dire, del volto del discepolo missionario che segue Gesù, il vero discepolo. E il testo ci dice che Gesù chiamò i discepoli, li mandò due a due davanti a sé per evangelizzare e dà dei consigli molto pratici. Il discepolo è colui che deve avere un equipaggiamento molto semplice, non bastone, né bisaccia, né pane, né questo né quest'altro, solo le cose essenziali che gli servono per la sua evangelizzazione. Deve essere la sua vita quasi una vita itinerante con Gesù, una vita di comunione con Gesù, come Gesù ha vissuto nell'essenzialità, nei tre anni di evangelizzazione, così deve essere il missionario. Il discepolo dunque è inviato in missione con un progetto ben chiaro. E la condizione, allora, qual è la condizione fondamentale? Perché il progetto missionario della Chiesa, di tutti noi, di ogni cristiano si realizzi? È la povertà. Questa è la condizione fondamentale. È Dio che opera, non sono i nostri mezzi. Per questo le cose essenziali sono povertà di mezzi e fede in Dio. È molto bello il testo in cui appunto ci dice senza tanti bagagli deve andare il missionario, non si deve fermare in una casa finché lo accolgono rimanga in quella casa. Dove non l'accettano lasci, va d'altrove, scuota la polvere dei suoi sandali, come per dire non scenda compromessi con coloro che non lo hanno accolto, ma va d'altrove, annunci altrove. E qui mi sembra di sentire proprio il messaggio che ci viene dal Papa Francesco, quando ci dice andate nelle periferie, andate fuori ad annunciare, non rimanete dentro, uscite all'aperto, uscite ai margini delle strade per evangelizzare la parola di Dio. Dunque la povertà e la fede sono le condizioni essenziali per poter ottenere il risultato del campo dell'evangelizzazione. E allora l'annuncio del discepolo non sarà soltanto una teoria, ma sarà una parola che convince, che coinvolge, che evangelizza, che converte, una parola attraverso la quale fa prendere posizione agli altri, una parola che forse disturba, ma che converte il cuore. La missione del discepolo è soprattutto lottare contro il male, contro Satana, per fare emergere la figura di Cristo, la parola di Cristo. Quindi lottare contro il male, contro tutte le forme del male, tutte le forme di ingiustizia per far trionfare il bene. E allora il discepolo non è soltanto, potremmo dire, il maestro della parola, ma deve diventare il testimone di questa parola, testimone della verità, testimone della giustizia, testimone della pace. Ecco Signore, ti vogliamo veramente benedire e ringraziare di questa parola che ci ricorda qual è la nostra missione, come cristiani, come evangelizzatori, come annunciatori del tuo mistero di salvezza. Fa che senza tanti mezzi umani possiamo concentrarci sull'essenziale che tu ci presenti, come ha vissuto Gesù, per essere in mezzo ai fratelli luce, sale e lievito che evangelizza e che trasforma il cuore degli uomini. Te lo chiediamo tutto questo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.